Questo sarà un altro di quei video in cui presento un'altra occasione win-win. Infatti sta probabilmente arrivando una delle migliori, se non la migliore, piattaforma per scambi, quindi exchange, in versione pro del settore italiano. Parlo di Young Platform e già come si può vedere a questa immagine sta partendo un contest prima del lancio di questa piattaforma. E questo contest alla fine del percorso potrebbe portare addirittura all'utilizzo di questa piattaforma di scambio con delle fee di negoziazione addirittura azzerate. Quindi praticamente con commissioni gratuite addirittura a lifetime se si completa tutto il percorso che vi andrò a spiegare. E questo è uno dei benefit che si hanno partecipando adesso a questa cosa che vi spiegherò. In più presenterò un altro regalo durante questo video legato alla formazione sulla fiscalità. Praticamente c'è la possibilità di ottenere un opuscolo su come gestire la fiscalità in modo gratuito direttamente sul mondo cripto. E c'è questo monte premi che qui ci dicono di 20.000 euro che non è un premio a estrazione. Vi spiego tutto meglio ma facciamo un passo indietro. Questo è un video in collaborazione con Young. Ho deciso di collaborare con questa azienda che nasce con una startup praticamente che viene fondata da 6 ragazzi italiani, 6 studenti dell'università di Torino di informatica. Perché ho deciso di collaborare con loro? Perché a parte che ho conosciuto i due principali founder, quindi il CEO e il CMO, durante una live nel periodo praticamente di lockdown, nel periodo dove c'era l'Halving, era ridosso dell'Halving, feci partecipare a una maratona proprio dell'Halving insieme appunto a Diego e Andrea. Andrea è il CEO di questa società mentre Diego è il CMO. I ragazzi mi hanno fatto un'ottima impressione poi sono andato ad approfondire meglio cosa c'è dietro a questo progetto. Qui c'è anche un articolo del Forbes che ci spiega un po' tutto. Come ci spiega anche Forbes, praticamente l'idea nasce e viene lanciata con un'app e anch'io ho conosciuto Young con questa app. L'app è StepDrop, praticamente è un'app scaricabile sul cellulare, sullo smartphone, vi faccio vedere qualcosa intanto mentre ne parlo. Anche io l'ho provata per un po' di tempo, camminando si possono sbloccare praticamente delle reward e si possono guadagnare dei Young token. Con questo sistema che ha unito sia gamification che educazione, praticamente loro hanno costruito la prima base per una community. E questa community è arrivata poi a conteggiare fino a 120.000 utenti. Quindi già a partire con una base di utenti così alta è molto molto importante. A seguito di questo c'è stata una raccolta fondi e praticamente il team ha raccolto tramite Business Angel e altre campagne di crowdfunding 250.000 euro. Con queste sono state lanciate appunto i servizi addizionali perché infatti Young comprende ben quattro prodotti. Tre sono stati già lanciati e sono questa app che vi ho fatto vedere StepDrop. C'è poi un exchange molto molto semplice che è questo qui, praticamente è Young Exchange per acquistare e vendere Bitcoin ed altre crypto. Il terzo è l'Academy. A seguito del rilascio di questi prodotti l'azienda, praticamente la startup è cresciuta tantissimo e ha cominciato subito a lavorare per il rilascio dell'exchange versione pro che è quella di cui parlerò oggi. C'è stato un enorme aumento di capitale, infatti hanno raccolto fino a un milione inizialmente, quindi quasi un milione di euro inizialmente e adesso l'azienda è stimata a 10 milioni di euro. Quindi stanno crescendo in modo molto deciso con partnership importanti, addirittura con MakerDAO e Paxos. La cosa che a me interessa più di tutte, questa era un escursus sul team che è sempre importante e la visione che c'è dietro, tra l'altro lo staff adesso si è allargato, sono arrivati ad essere circa 18, se non sbaglio 18 membri dello staff. Quindi comincia ad essere una società abbastanza importante e il tutto è, come ci dice anche qui, facile da usare, sicuro e veloce. Quindi il target per il prodotto exchange base, questo qui, è ovviamente a un target di utenza che si approccia per la prima volta magari o ancora non ha familiarità con le crypto, mentre invece il target per il pro è per chi ha già familiarità con le crypto, cerca uno strumento che offra sicurezza, efficienza e bassi costi. Importante ovviamente è sempre andare a vedere l'aspetto sicurezza e tecnologia e da questo punto di vista ho appunto deciso di intraprendere questo percorso insieme a Young e diciamo collaborare in questo modo, sponsorizzando il lancio del loro prodotto, perché il tutto è affidabile in quanto si basano su una tecnologia ad altissimo standard. Questo standard è garantito da Modulus, che è il motore praticamente che tiene su tecnologie e piattaforme internazionali, quali ad esempio Kraken. Modulus è probabilmente al momento la tecnologia più importante per quanto riguarda exchange e piattaforme di trading. La sicurezza è garantita da diverse architetture multilayer, praticamente la maggior parte dei fondi sono in cold storage, quindi un cold wallet che mantiene fino a 100 milioni di euro. E la sicurezza è garantita perché la maggior parte dei fondi sono comunque tenuti in modo cold, quindi offline, mentre un 5-7% dei fondi è hot su hot wallet, che serve appunto per effettuare gli exchange. Però l'efficienza è garantita dal fatto che c'è un'alta liquidità su questo exchange e soprattutto quello che sarà il pro. Infatti c'è un market maker trading bots, quindi ci sono dei bot che vanno a gestire la liquidità e gestiscono liquidità di exchange come Binance, Kraken, Bittrex, Bitfinex, Poloniex e HitBTC. Quindi praticamente Young rientrerà in questo circolo, in questo scambio di liquidità, quindi parliamo di una liquidità ai massimi livelli. Già da ora su Young è possibile acquistare in modo molto semplice, c'è l'acquisto anche tramite carta di credito, ma addirittura tramite Google Pay e Apple Pay che raramente ho visto in giro. Il tutto a livello italiano è basato su due banche italiane, quindi dietro ci sono due banche italiane che sono Banca Sella e Banca Azzoaglio. Questo oltre a dare delle garanzie sull'operatività e quello che è appunto la società stessa, dà anche dei vantaggi a livello fiscale. Infatti mi voglio riallacciare anche a questo e dirvi qual è il regalo che offre direttamente questa piattaforma, ossia il primo regalo che fanno. Il terzo prodotto che vi ho menzionato è l'Academy, anche questo molto molto interessante perché ci sono degli approfondimenti soprattutto per fare formazione e imparare le cose di base, ad esempio da cos'è Bitcoin o che cos'è l'Halving. Halving perché Bitcoin è mune all'inflazione, guardate che bello articolo. Mi piace tanto come sono impaginate, la grafica, come sono spiegate in modo semplice questi concetti in italiano. Quindi si trova una formazione, un'Academy del tutto gratuita, basta andare sul sito, lascio i riferimenti e trovate tutto questo contenuto di alto valore. Legato a questo e legato alla formazione vi stavo accennando appunto alla fiscalità. Essendo il tutto detenuto su banche, quindi fondi, essendo i fondi su banche italiane e l'exchange del tutto italiano, nonostante gli alti standard internazionali a livello tecnologico e di sicurezza, ci potrebbero essere molti meno mal di testa dal punto di vista di dichiarazione fiscale. Allora come fare queste dichiarazioni fiscali? Questa è una delle domande più ricorrenti che c'è. Che cosa ci offre direttamente Young? La possibilità di scaricare un ebook dedicato, un opuscolo dedicato alla fiscalità e come gestire queste cose. Proprio come fare? Vi lascio anche qui il riferimento, vedete qui questo pop-up che c'è, scarica ora. Basterà lasciare nome ed email, quindi per iscriversi alla newsletter e ricevere questo opuscolo scritto da Giorgio D'Amico. Eccolo qui. Giorgio D'Amico qualcuno l'avrà già sentito, infatti è il commercialista cripto, diciamo ormai più conosciuto, tra i più conosciuti in Italia, tra l'altro lo trovate come GDA all'interno della Tax Square su Coin Square, quindi su Discord. Giorgio D'Amico ha scritto questo breve ebook scaricabile gratuitamente dove ci va a spiegare tutti gli aspetti fiscali. Ovviamente è una linea guida, non può essere una cosa completa, però ci dà una linea guida sugli obblighi fiscali, sul calcolo della base imponibile, come gestire appunto questo tipo di investimento, i vari esempi che ci sono, come effettuare in modo pratico la dichiarazione dei redditi, quindi il modello 730, poi c'è anche il quadro RV, tutte queste cose che sono spesso chieste. Come ripeto e come dice anche Giorgio, ovviamente questa è una linea guida e siccome le cose cambiano e sono sempre molto a interpretazione, non essendoci una legge fatta per bene in questo campo, questo quantomeno è un'introduzione al discorso. Comunque vi lascio il riferimento e questo è il primo regalo che arriva direttamente con questo video qui. Ovviamente Giorgio seguirà anche tutto il processo legato proprio a Young Platform, quindi stanno creando un team che è blindato da tutti i punti di vista. Una piattaforma che si presenta davvero molto molto bene. Voglio anche darvi un accenno di come sarà questa versione Pro, perché? Perché ho ottenuto una demo, praticamente mi hanno costruito un accesso alla demo solo per farlo vedere durante questo video qui, quindi vi farò vedere direttamente questo, poi vi spiego come funziona per registrare l'accesso, quindi tutto il processo per partecipare al contest ed ottenere praticamente l'accesso in anteprima a questa piattaforma con le commissioni gratuite, possibilmente anche lifetime se si completa tutto il processo e come partecipare al contest per vincere i 20.000 euro. C'è il codice di verifica che mi arriva tramite email. Ed ecco qui, adesso ho un bel conto con 100.000 euro virtuali, ovviamente questa è una demo e praticamente per effettuare le operazioni qui ricorda molto la piattaforma Coinbase Pro e infatti è su quello stile, su quel segmento che si vuole basare Young con gli essessi standard o comunque standard elevatissimi a livello di sicurezza aggiungendo inoltre altre criptovalute perché le criptovalute che verranno aggiunte su questa piattaforma al momento del lancio saranno tante, oltre a quelle che già si vedono, quindi i vari bitcoin, ethereum, più di 12 criptovalute, quindi già so che arriverà Algorand, Augur, Tether, Tron, Dash, Kyber Network, EOS, Chainlink, Orchid, Basic Attention Token e tanti altri. Adesso non le ricordo prettamente tutte ma arriveranno veramente tante monete, tanti token scambiabili direttamente in questa versione Pro e come funziona? Funziona praticamente andando a settare degli ordini in questo modo qui cioè ci sono sia gli ordini a mercato che limite e stop, quelli a mercato funzionano in modo molto semplice praticamente basterà selezionare quanto si vuole acquistare e poi al prezzo di mercato se volessi acquistare 1000 euro, in questo caso questa è la versione senza aver ottenuto nessun tipo di agevolazione sulle commissioni, andrei a comprare BTC in questo modo e andrei ad avere 1000 euro acquistati, quindi 0.11 BTC acquistati poi ci sono le operazioni a limite dove ovviamente si imposta quanto si vuole acquistare ad esempio se volessimo acquistare 0.1 BTC e impostando il prezzo che adesso qui ci fa vedere 8.741 a limite quindi 8.730 potremmo mettere un limit, qui c'è avanzato quindi good till cancelled, molto molto simile appunto alla versione Coinbase Pro e qui troviamo il nostro ordine a limite, stessa cosa avverrà per vendita e stop loss con take profit e stop loss, tutto molto molto professionale, intuitivo qui abbiamo una vista degli ordini, il nostro portafoglio e vedete già le monete che ci sono con Bitcoin, Litecoin, Yang ovviamente, Ethereum e Stellar queste sono quelle già implementate nella versione demo, nella versione Pro quando verrà lanciata ci saranno tutte le altre di cui già ho parlato veniamo al dunque, come si fa a fare questo processo per partecipare a questo contest e avere questi benefit qui allora, seguendo il link che vi lascerò in descrizione, sarà il primo che trovate che è un referral link per la partecipazione si arriverà a questa pagina con la possibilità di fare inizia ora gratis inserendo la nostra email e accettando i termini e condizioni praticamente si è fatto già il primo step, semplicissimo il primo e cosa comporta il primo step? Praticamente si è iscritti alla waiting list quando la versione Pro verrà rilasciata, noi lo sapremo ricevendo un'email e questo avverrà a metà ottobre infatti questo contest finisce il 14 ottobre inizia il 14 settembre e finisce il 14 ottobre che cosa vuol dire? Che dal 14 settembre si può partecipare per vincere questi 20.000 euro questi 20.000 euro saranno praticamente distribuite e divisi in base a un certo numero di ticket questo percorso consente di ottenere uno o più ticket poi in base a quanti ce ne saranno si dividerà questo monte premi ed ogni ticket vincerà un certo quantitativo di bitcoin quindi non è un'estrazione ma una vincita sicura se si ha un ticket e se ne possono comunque accumulare di più, come si fa? bisogna innanzitutto fare tutti gli step il primo è questo semplicissimo, seguire il link e lasciare l'email quindi si partecipa alla waiting list c'è il secondo step che è quello di registrarsi sull'exchange vedete ancora non ho fatto neanche io questo step pian piano adesso che arriverò prima del 14 farò tutti questi step perché? perché poi c'è lo step 3 con la verifica dell'identità il classico KYC che dal team consigliano ho chiesto io specificatamente come è la migliore pratica ed è consigliabile farlo direttamente da mobile infatti tutte queste applicazioni sono anche su mobile da mobile è molto più semplice fare il riconoscimento dei documenti e avviene comunque loro dicono che avviene il riconoscimento in 10-15 minuti quantomeno per il livello 1 poi c'è un livello secondario per poter sbloccare ulteriori limiti su riconoscimento a residenza e tutto quanto quello avviene manualmente dal team ci vuole un pizzico più di tempo ma lo step 3, questo verifica dell'identità serve un documento il classico KYC insomma e consiglio di farlo tramite smartphone il quarto passo, il quarto step è quello di fare un deposito minimo e non è un pagare qualcosa è un depositare per andare a alimentare il conto sulla piattaforma e si sono fatti tutti e quattro gli step per accedere poi all'ultimo e che è quello del grado ultimate che loro chiamano ultimate dove bisogna praticamente invitare 10 amici con altri 10 amici invitati si ha praticamente l'accesso alla piattaforma lifetime quindi per sempre senza commissioni sul trading comunque a partire da ogni step raggiunto già si raggiunge un certo tipo di benefit già si ha un certo tipo di bonus cerco di spiegare il tutto velocemente da qui da questo pdf fornito direttamente da Young praticamente il primo step è quello dell'iscrizione lasciando semplicemente l'email già facendo la registrazione ossia il secondo step si ha diritto al primo livello il primo livello è quello beginner ossia primi due step completati email e registrazione con le fee gratis per 30 giorni quindi si può operare sulla piattaforma pro con commissioni a zero per un mese intero il livello professional quello successivo che dura tre mesi richiede i primi tre step completati il terzo step è quello della verifica identità quindi basterà fare il KYC poi si ha il livello VIP ossia lo step con il KYC in più l'invito di due persone che abbiano effettuato anch'essi registrazione e verifica utenti con questo si ha diritto ad avere tutto l'utilizzo per sei mesi della piattaforma senza commissioni poi si ha il livello leggenda praticamente con fee gratuite per un anno dove bisogna fare tutti gli step quindi dopo la verifica c'è il deposito ma il deposito ha un importo minimo di 20 euro quindi questi 20 euro tra l'altro sono depositabili sia tramite bonifico sia tramite crypto quindi anche con un controvalore ad esempio spostando sul nostro wallet 20 euro in bitcoin e con questo step ossia tutti e quattro le procedure fatte in più l'invito di 5 persone che fanno registrazione e verifica di identità si avrà un anno di fee gratuite se si arriva addirittura a invitare 10 persone si ha il livello ultimate ossia fee gratuite lifetime prende si avrà accesso a un account senza commissioni su questa piattaforma pro in più chiunque abbia completato tutto e sia arrivato a livello ultimate riceverà un ticket e quindi quel ticket consentirà di vincere un monte premio in bitcoin e inoltre ogni altre 10 persone invitate in più si otterrà un ticket addizionale per vincere questo monte premi tutte le domande addizionali ve le lascio direttamente qui dalle FAQ qui ci sono le risposte a come partecipare quando sarà possibile iscriversi che cos'è un ticket come viene calcolata la quota se esiste un massimo ci sono tutte le domande che si possono leggere direttamente da questa pagina che vi lascio nei riferimenti questa era la presentazione di Young versione pro come exchange vi lascio anche il canale telegram italiano dove troverete anche i founder e quindi potremo discutere di questo e di tutti gli aspetti che arriveranno direttamente su telegram ve lo lascio in descrizione questa era la mia presentazione vedrete che a brevissimo ne sentiremo tantissimo parlare di questa piattaforma un po' ovunque perché entra veramente in modo forte come uno dei più grandi player non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale approfittarne sin dall'inizio anzi in anticipo è sempre un vantaggio volevo presentarvi questa cosa per questo ho deciso di fare questa collaborazione che ritengo essere molto molto interessante fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando cercate di portare avanti questi step perché diventa un'operazione gratuita che potrebbe portare dei benefici veramente interessanti che potrebbe portare avanti che potrebbe portare avanti che potrebbe portare avanti